Permetteteci di ringraziare i volontari che hanno il titolo Anno Capabalato per poter rendere possibile tutto ciò. Nelle frazioni abbiamo in visito sulla scuola, innanzitutto spostando la scuola materna satale in una struttura nuova. Dal momento che l'edificio scolastico presente nella frazione di livinga non presentava le minime basi di sicurezza, non c'è stato un largo stanco. Adesso speriamo di riuscire il tema del nuovo anno scolastico per poter, al fine di abitare a disposizione, di avere a disposizione edifici i siti in località Abreu e tentare di riprendere il vecchio progetto per il quale era stato ristrutturato. La nostra visione nell'impegno sociale è un centro per le malattie e per le malattie agli ambientali. La nostra visione nell'impegno sociale, specificatamente nell'antico dei servizi sociali, parte dal fatto che è necessario, quando si parla di queste tematiche, offrire dei servizi e una certa inversione di tendenza c'è stata. Abbiamo cercato di individuare delle esigenze di particolari famiglie con minori in difficoltà. Ci stiamo attivando presso le strutture sanitarie, le poste e presso anche le strutture sanitarie.